Sono molto felice di annunciarvi che è online il sito matrimoni con l'accento, il primo wedding blog d'Italia, ovvero video blog, che è già nato da diversi mesi su YouTube, ma adesso esiste in questa nuova veste che spero tanto vi piaccia, a me sì, sono molto fiera, molto contenta. Naturalmente ci troverete tutti i video che pubblico ogni venerdì alle 10 su YouTube, però in più troverete anche quelle che ho chiamato le pillole di wedding, ovvero quei consigli che mi vengono da dare al volo durante lo svolgimento delle mie giornate lavorative e poi è in lavorazione e arriverà presto anche una sezione dedicata ai real weddings, matrimoni con l'accento.it